3 regole fondamentali per avere successo Regola numero 1 Decidere effettivamente che cosa si vuole Crearsi un obiettivo Regola numero 2 Stabilire se sei pronti a pagare il necessario prezzo Regola numero 3 Pagare quel determinato prezzo Se non si compie quest'ultimo passo Sarà impossibile avere il successo desiderato Coloro che sanno ciò che vogliono E sono pronti a pagare il prezzo per ottenerlo E' come quando una persona decide di leggere un libro Le fasi sono 3 Decidere il libro Acquistarlo e successivamente leggerlo fino alla fine Nel momento in cui non si legge il libro fino alla fine I primi due passi saranno inutili Quindi portiamo sempre a termine i nostri obiettivi Ma soprattutto paghiamo quel determinato prezzo Per raggiungere il nostro obiettivo finale